Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi doppia live, sono a pezzi. Tra queste live e la caccia al tesoro veramente forze finite completamente. Comunque nonostante tutto noi ci ritroviamo come al solito a vedere che cosa ci sta combinando Bitcoin, cosa sta succedendo nel mondo delle cripto e soprattutto le notizie più interessanti e le vostre domande. Come sempre non provate a chiedermi a strapparmi indizi per la caccia al tesoro perché non sarò per nulla magnanimo. Iniziamo con una bella panoramica della situazione di Bitcoin che oggi non mi è dispiaciuto ma è ancora fiacco, ancora lì che non reagisce abbastanza purtroppo come potete vedere dal grafico abbiamo una situazione di ahimè sembra falso breakout, come vedete qui abbiamo provato a superare i 43.200 ma poi subito papam l'offerta ci ha ricordato qual è il nostro posto e siamo ritornati sotto il livello stesso. Tuttavia oggi la domanda si è fatta sentire perché se l'offerta ha provato a damparci un po' per bene abbiamo ottenuto, quello che abbiamo ottenuto è stata una lower shadow abbastanza marcata e un po' di assorbimento. Adesso vediamo dove andiamo a chiudere oggi e nei prossimi giorni dovremo fare attenzione al weekend perché se riusciamo a fare un costruttino di questo tipo e poi lo rompiamo magari riusciamo ad attaccare i 47.200. I 47.200 sarebbero proprio il primo target per auspicare verso una piccola ripresa, un inizio di ripresa, un barlume di ripresa che non basta da sola perché se poi i 47.200 ci rifiutano di nuovo siamo ancora più deboli di prima ma se per qualche strana ragione la domanda dovesse improvvisamente farsi vedere e andare a superare questi livelli, 1 e 1, 2 soprattutto, 52-53.000 allora avremmo creato un bel costruttone di bottom. Questo sì, mi piacerebbe vederlo anche perché invalideremmo la teoria delle due spalle, della sorta di teste spalle che adesso vedo girare fin troppo, tutto il panico del teste spalle ribassista che viene rotto e ci porta non so dove, se lo invalidiamo non è male insomma però di fatto teste spalle o non teste spalle queste sono le principali resistenze che è evidente quanto siano importanti. Ancora più evidente sul settimanale perché guardate, se chiudiamo di nuovo il settimanale qua sotto, sotto i 43.200 di fatto questo potrebbe essere quasi un bearish retest e va un po' a rendere probabile, cioè va a spianare il terreno per un eventuale ulteriore lagdown che ci potrebbe portare dritti dritti a 30-32.000 quindi dobbiamo fare attenzione proprio a questa chiusura al contrario lo scenario bullish potrebbe essere, cioè sarebbe stato il massimo l'assorbimento dei 47.500 l'avevamo detto l'ultima volta, no non è i 5, è 47, no sì 47.500 l'avevamo detto l'ultima volta che se doveva chiuderci bene la candela settimanale qua sopra cioè immaginatevi che bella spinta che ci avrebbe dato però sembra sempre meno probabile sarebbe stato lo scenario più bullish mi accontento anche per adesso, dai, di rientrare qui dentro e poi avere un follow up la settimana dopo il problema è che se è così fiacca la domanda cioè non riesce nemmeno a recuperare la prima resistenza che ha perso faccio fatica a immaginare che possa davvero farsi sentire cioè mi viene veramente da pensare che lo scenario più probabile può essere ritornare in questa zona e poi magari rimbalzare da lì cioè continuare sotto la struttura, l'ipotesi di range gigantesco del 30 ai 60.000 cioè che range è il range più grosso che abbia mai visto comunque queste sono le possibilità fondamentalmente lato macroscopico per adesso purtroppo siamo compressi qui dentro che è sotto lo scorso low settimanale il che non mi fa molto ben sperare quindi mi raccomando bitcoin, bulls se ci siete invalidate questa dannatissima resistenza per quanto riguarda il resto il mercato delle alt è abbastanza statico è ritornata la dominance guardate ha fatto il rimbalzo ed è ritornata praticamente al punto di partenza molte altcoin stanno effettivamente rimbalzando in particolare ethereum ha avuto un rimbalzo abbastanza marcato che di fatto è quello che ha guidato la dominance tuttavia non basta come vedete per ritornare bullish abbiamo il 0.08 come linea di demarcazione sopra la quale sì magari abbiamo fatto un falso una deviazione possiamo chiamarla e siamo di nuovo nella struttura che tanto ci piace ma ahimè se ci rimaniamo sotto vedete che la possibilità lo scenario più probabile rimane quello di bearish retest dal basso stiamo a vedere anche qua per quanto riguarda il resto ci sono alcune altcoin veramente infuocate come Harmony Harmony è infuocata ha fatto nuovi massimi recentemente nonostante ha avuto un po' di problemini tecnici come vi condividevo su telegram poco fa Harmony ha avuto una paralisi una paralisi causata da uno spam attack in sostanza tante transazioni per creare traffico per paralizzare il network una sorta di DDoS hanno sovraccaricato per l'appunto la chain rendendola ferma non ha prodotto blocchi per 7 ore questo risale a 10 ore fa poi la risoluzione è avvenuta dopo 7 ore il problema è stato uno spam attack sul shard 0 non so se vi ricordate il video su Harmony che abbiamo fatto dove vi ho spiegato un po' come funziona ci sono vari frammenti si utilizza lo sharding e c'è uno shard che è lo shard 0 che è quello che un po' sincronizza le attività è la chain più importante l'equivalente della beacon chain se vogliamo per il futuro Ethereum 2.0 paralizzando quello ahimè si paralizza tutto quanto e di conseguenza ci sono stati questi grossi disservizi tra l'altro nel comunicato fatto dal team qui su Reddit di Harmony si legge come dove eccolo qua che i problemi di propagazione dei blocchi esistevano già da 30 ore sempre a causa di heavy spam traffic quindi transazioni spammate e questi sono i problemi un po' delle chain che hanno bassi costi di transazione sono facili da intasare l'abbiamo visto su Solana l'abbiamo visto su Polygon l'abbiamo visto su Harmony spero che sia evidente adesso come non è solo Solana che si blocca tutti Solana si blocca è la chain peggiore al mondo le chain scalabili hanno altri problemi hanno problemi che devono risolvere e al momento insomma chi prima chi dopo ne soffre quindi questo è non ha il prezzo non ne ha risentito minimamente ma ci sta cioè ci sta io le capisco queste situazioni e non mi sento di condannarle perché comunque siamo in una fase early dello sviluppo di queste tecnologie e pertanto ci può stare non è nulla di irrecuperabile nulla di drammatico c'è stato un blocco un disservizio durato tot tempo per un problema che adesso è stato risolto perché hanno implementato una modifica finalizzata al questa qui che potete leggere poi nei dettagli se volete finalizzata proprio al prevenire questi spam attack in futuro e quindi niente questo per dire che comunque One pompa come un folle poi che cosa abbiamo abbiamo un c'è stato un po' un rebound di CVX negli ultimi giorni nonostante questo grafico sia una delle cose più brutte che abbia mai visto in tutta la mia vita perché è sporchissimo ed è soprattutto di breve durata poi di altre ci sarà Atom sicuramente che schizza in maniera folle sta anche lateralizzando proprio sotto i massimi poi magari andiamo a vedere i grafici meglio se vi dovesse interessare ditemelo voi insomma se volete qualche analisi più approfondita di qualche altcoin l'una dopo la FOMO di di quei tweet di Doquan secondo i quali con buona probabilità insomma i rumor fanno pensare a quello andrà a collateralizzare è sbagliato cioè andrà a creare un pool di un miliardo di dollari di bitcoin finalizzato a mantenere il peg di UST quindi consolidando ancora di più l'ecosistema stesso phantom vediamolo come va anche lui è in bullish retest quindi estremamente carico e infuocato vedete che le altcoin sono comunque in in una fase più che positiva oserei dire no le principali poi di quelle che stavamo seguendo a parte visto che allora aspettate quelle lì non ci sono ancora i grafici allora in particolare token eccolo anche lui ha fatto un rebound vedete ha ritornato quasi a 60 dollari nonostante tutto nonostante la situazione quindi si sta muovendo in un trend rialzista butterfly che ultimamente non lo guardo neanche più perché è più volatile di una farfalla per l'appunto sta comunque quasi sui 3000 dollari quindi considerando i vari rebates direi che non ci si può assolutamente lamentare insomma i cippini ultimamente stanno rendendo abbastanza bene questa è un po' la panoramica della situazione novità non ce ne sono il mio portafoglio è sempre quello che avete visto l'ultima volta mi avete chiesto ma visto la situazione visto il bitcoin un po' che scende crv cvx sono scesi cosa fai cosa non fai seguo la mia strategia esattamente come da programma poi cos'altro abbiamo di cui parlare di bello oggi allora eccolo qua vabbè la notizia del giorno con ilon musk e dogecoin che l'ha fatto pompare ma nemmeno troppo anzi ha credo innescato un bel dampino ha assorbito exit liquidity proprio veramente al massimo e niente tesla inizia a vendere il merchandising pagabile in doge c'è in vendita un bellissimo decanter dove puoi mettere il tuo super alcolico preferito a forma di fulmine giallo con il logo tesla che puoi pagare in bitcoin dogecoin 825 doge per questa meraviglia che equivalgono a cos'è 0 e 2 doge cos'è diviso 4 200 dollari beh worth it oserei dire non so cosa ne pensate poi andiamo avanti con le notizie notizie lato fondamentali sempre positive jack dorsey sta sviluppando con la sua azienda block un open bitcoin mining system non ho ben capito cosa intenda ma l'obiettivo è rendere il mining di bitcoin più distribuito meno centralizzato e più accessibile a tutti sono curioso di vedere come ma il nostro jack è un massimalista ai suoi difetti però per bitcoin secondo me ha sempre portato del valore e credo che lo continuerà a fare poi sempre lato fondamentali ho trovato questo report interessante che fa vedere nell'anno 2021 gli sviluppatori l'andamento del numero di sviluppatori nel web 3 in base all'analisi di github di varie repository e attività del genere e guardate che grafico cioè pazzesco all time i continuamente crescente questo valore sempre più sviluppatori si dedicano al web 3 pazzesco veramente un dato un dato notevole e oltre a bitcoin eterium vedete ci sono anche altre chain polkadot cosmos solana bsc near avalanche insomma tutte le principali pure cardano molto bene e polkadot solana near bsc avalanche eterra stanno crescendo più velocemente rispetto a quanto ha fatto eterium nello stesso momento sto nello stesso periodo diciamo nella stessa fase e 2500 sviluppatori un po' di più in realtà stanno lavorando sui progetti defi che è sempre la cosa più trainante quindi niente qua c'è tutto il report se vi dovesse interessare di 130 pagine e basta mi sembrava carino vedere anche come cioè l'andamento dell'attività proprio di chi lavora in questo settore oltre che guardare sempre i prezzi no poi cos'altro abbiamo ultima notizia su saber sono attive le gogis quindi esattamente come su curve c'è lo stesso modello su saber inizieranno le saber wars inizieranno a fare l'equivalente di convex su saber vediamo vediamo di certo solana ha sempre il suo perché si sta sviluppando bene anche lì l'ecosistema defi tra poco arriva psi options con la ieo di ftx vi ricordo che è il 18 mi pareva il 18 e molto bullish su quello come sulle opzioni in generale l'avrete capito ultimamente vi ho fatto una testa tanta con con dopex con le opzioni con le opzioni defi e eccola qua 18 1 2022 esatto psi options vediamo un po' come come svilupperà il suo protocollo ma di fatto è una una piattaforma di trading di opzioni creazione e trading di opzioni che ripeto secondo me avranno il loro momento d'oro tra non tanto tempo insomma in termini di utilizzo sono molto hypate ma c'è un perché poi ultima cosa poi passo la parola a voi e alle vostre domandozze allora eccoci qua creditum questa è una nuova piattaforma cioè nuova per me perché magari mi sveglio tardi come sempre ultimamente allora aspettate che vado sulla chain giusta dove sei eccoti tac perché si trova su phantom allora ultimamente su phantom succedono cose succedono tante cose vediamo se è ancora così ma l'andamento del tvl su phantom è veramente impressionante la sua crescita è veramente impressionante guardate 7 billion in realtà non fa vedere tutto perché avevo letto sul loro twitter che hanno superato i 10 quindi secondo me manca qualcosa in the file ma non lo so se hanno non so quale è giusto quale è sbagliato però a prescindere anche fossero 7 guardate che bello andamento abbiamo comunque una crescita importante guardate negli ultimi 7 giorni le piattaforme che sono cresciute di più liquid driver in particolare reaper farm mi manca questa che cos'è vediamola insieme che cos'è caspi testo reaper farms reaper farm allora non c'è il sito si website vediamo scommetto che è sono su phantom ok scommetto che è un auto compounder un booster un qualcosa di tipo convex insomma vediamo vediamo mi potrebbe piacere molto se fosse un bell'auto compounder fatto bene allora bella la grafica un po' la curve dunque ftm 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 tutto ftm però vediamo gli apy apy all ok si appoggia ad altre piattaforme quindi figo c'è anche showmore quindi non finisce qua allora proviamo a vedere se c'è qualcosa ad esempio sulle stable coin che di solito è il primo indicatore che io vado a vedere due pool cusd questo mi potrebbe piacere 87% di apy allora cusd facciamo un passo alla volta allora io prima vi volevo far vedere creditum quindi partiamo da creditum poi arriviamo al resto creditum è una piattaforma dove è possibile creare la loro cusd che è una stable coin mintandola con collaterale vari asset nonché alcuni yield generating asset cosa vi ricorda chi è caduto abracadabra bravo hai ragione e il problema è che vabbè anche questa tendenzialmente si svuota in fretta left to borrow va a zero alla velocità della luce ma interessante perché ad esempio vi faccio un esempio banalissimo voi prendete dai allora facciamo tutto tutto il giro andiamo su yearn qua ci sono degli apy belli golosi belli golosi allora andiamo su yearn su phantom chiaramente dai al 23% usdc al 22% cosa facciamo noi andiamo a depositare dai usdc su il nostro fantastico yearn otteniamo l'yv dai o yv usdc e guardate che bello lo si collateralizza ai massimi il problema è che non c'è più niente da borroware ma occhi puntati perché ogni tanto viene riempito di nuovi cusd collateralizzare si borrowa cusd al 95% di long to value si tratta di stable coin quindi non c'è rischio di liquidazione con questi cusd cosa ci fai? farmi su creditum guardate c'è il cusd 2 pool su curve andiamolo a prendere curve fpm lui esattamente allora pam vediamolo 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 non è qui eccolo creditum l'avevo visto dove sei? dove sei? è lui cusd dai usdc no non era quello qual era qual era aspettate andiamo a prendere il nome di là era cusd 2 pool ma è quello lì secondo me 2 pool 2 pool cusd 2 pool no eccolo qua ok quindi questo volume 0 siamo sicuri? no ce n'è un altro secondo me questi non c'entrano una ciolla di niente secondo me era giusto quello lì di credito ma aspettate facciamo tutti i passi giusti non facciamo minchiate eccolo secondo me anche se non è che ci siano volumi esagerati ma mi sembra strano che sia questo cusd 2 pool qua sotto che ha 0 volumi io dico che è questo andiamo a vedere la liquidità lo capiamo subito allora vediamo non ci sono le infos deposit non me lo dice root niente volevo sapere un po' di statistiche ma 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 non me le dice perché è strano è strano no secondo me è quello lì comunque mi riservo il diritto di informarmi no stai fermo volevo cercare cusd cosa mi trova creditum che è questo poi gli altri cusd 2 pool questi qua sono fantasma secondo me ma a me viene da dire quello però ci ragioneremo lo vedremo lo capiremo meglio deposito idro ah ecco infatti è comparsa bene 16 milioni sì direi che è questo direi che è questo perché abbiamo 23 milioni 16 milioni di cusd e 7 milioni e mezzo del resto quindi penso proprio che sia questo il pool in questione e una volta che ho messo liquidità qui dentro vado a mettere ah tra l'altro guarda bella lì factory 54 deposit esatto è lui c'era il link anche qua vabbè buonanotte ve l'ho detto oggi oggi energie meno di minori di zero ho anche finito bloodborne quindi non vi dico e comunque cusd 2 pool vado a dare liquidità ottengo il token lp lo metto a farmare qua dentro e c'è un apr del 65% ok quindi questo è combinato con la l'y usd che avevamo visto che lo metti qua sopra e rende il 20% collateralizzi al 95% quindi prendi un dai 1000% supponiamo te lo metti a rendita al 21% su yearn prendi 950 su 1000% li vai a dare su curve prendi l'lp su curve lo vai a mettere su creditum e secondo me il netto finale è capace di aggirarsi intorno al questo cos'era 60 e qualcosa amica secondo me il netto finale si aggira sugli 80 giù di lì ok anche forse qualcosina in più niente male perché su stablecoin il rischio cusd comunque è molto collateralizzata quindi non non saprei c'è anche un tvl abbastanza alto il problema è che sono sempre vuoti i pool qui dove andare a porroware la stablecoin in questione noi adesso stavamo vedendo questo reaper però che anche qua c'è due pool cusd creditum all'87% niente male e probabilmente pharma su creditum oserei dire morinfo non mi dice niente la strategia e tutto quanto comunque è un autocompounder è un booster autocompounder insomma un bifi finance nel nel mondo phantom dunque mi manda un po' male che non c'è sì c'è search ah meno male allora tokens stablecoin non c'è vabbè lo lo approfondiremo meglio però interessante vabbè niente questo per l'abbiamo scoperto quasi per caso non lo conoscevo giuro e volevo farvi vedere solo creditum giusto per perché quello ci avevo smanettato un attimino prima e mi sembrava interessante da mostrare basta io direi che posso passare la parola a voi teniamo il nostro bitcoin dietro che porta bene e basta avanti fatevi avanti fatevi avanti allora 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 iniziamo pure con le domande Luca stanno rubando le navicelle su star atlas dillo così aiuti tutti e significa che cosa sta cos'è che sta succedendo scusate mi sono perso qualcosa stanno rubando le navicelle su star atlas ho capito bene come faccio a capire l'apr di biluna luna su astroport su coin all da meno dell'1% rispetto a oltre l'otto di terra swap possibile allora dunque lo andiamo a vedere astroport tools vediamo un po' d'acqua ghiacciata che ce n'è bisogno certo che sto benedetto astroport quando è che si deciderà di implementare una dashboard decente fatta come dio comanda porca miseria o è veramente brutto così cioè non c'è niente biluna luna sappiamo che c'è mezzo billion di liquidità quanti sono i volumi giusto per capire così facevamo una stima ma purtroppo secondo me non si riesce neanche a vedere beh allora andiamo a vedere su coin all che lì di solito ci sono tutte le statistiche allora biluna luna eccolo qua biluna luna astroport biluna luna astroport abbiamo 253 mila luna è un po' bassino è il volume bassino il volume rispetto alla liquidità sai che io tenderei di più a fidarmi di coin all secondo me ha senso come come apr ci sono dei volumi estremamente bassi fammi vedere il giornaliero dei volumi a parte che qua lo storico è brevissimo comunque se andiamo invece a vedere quello di astroport di scusa di terraswap biluna vediamo biluna luna eccolo qui abbiamo molta volumi simili però ci sono le fi più alte su terraswap perché su astroport sono dello 0,05 mentre su terraswap sono leggermente più alte e qui abbiamo un po' più di di volumi sulla liquidità quindi è possibile che sia giusto mi viene da pensare che sia giusto sì 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 allora dove siamo finiti eccoci qua puoi parlare di moonbeam che cos'è non so cosa su curve polygon la pool vbtc rambtc al 280% è nuova c'è una nuova pool allora su polygon vediamo vediamo subito perché in tal caso è i pin è i pin senza neanche pensarci allora vediamo toc allora dov'è 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 vbt no non è qua su polygon non c'è una mazza qua veramente non vedo niente di interessante volumi sottoterra ma possibile sono così bassi i volumi allora vediamo anche questa avm am vbtc ah no e insomma niente male ma cos'è come mai ha mosso così tanto e am vbtc qual è quella di ave vbtc rambtc è un vbtc normale di polygon ma strano vbtc rambtc cioè io non me la ricordo mai che è stata così ci sono stati i volumi folli daily vedi no è una è un'anomalia perché vedi daily apy altissimo weekly e monthly sono molto più bassi quindi credo che finirà esattamente ora già è iniziato ed è già finito non mi so spiegare questi volumi volumi folli che hanno generato le apy del genere ma ripeto non è destinato a durare assolutamente poi dunque 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 si parla tanto di abracadabra a parere mio un ottimo progetto ma vedo che qi dao viene spesso sottovalutato nonostante abbracci molte chain ha un sistema di incentivi simile a curve grazie al suo token qi dao è un landing no anche quello però dunque andiamo a vedere qi dao con mai è quello di mai eccolo qua infatti my finance con la sua stable coin borrow my allora ok enter up però non è proprio liquidissimo è come come cosa allora qui stiamo solo su polygon no oh si vediamo polygon c'è tutto ok fantomava no si è cross chain qui c'è il prezzo di mai che non è neanche troppo volatile landing allora con i vari collaterali è esatto è maker dao più che abracadabra perché di collaterali che io sappi almeno non ce ne sono di collaterali che generano interesse cioè è una sorta di di maker dao dove tu crei dai collateralizzando vari asset rc20 che però non è rc20 quindi ad esempio su polygon abbiamo sta roba qua vediamo su vediamo su phantom per esempio per curiosità poi sono interessanti i pool magari che ti permettono di andare a farmare con my quello si vedi qua sotto ci sono alcuni pool di esempio anche my my usdt su quick swap ma ce ne sono vari mi ricordo l'avevamo visto anche quando parlavamo delle rendite di stable coin no qui scusa collaterale yvdai yvdai 100% tra l'altro interessante sta cosa mamma mia mi fate scoprire voi tutto quanto create vault vediamo se il funzionamento è il solito di maker dao però direi di sì perché mi sembra proprio la classica ah no ok collaterali dunque yourn phantom yourn die my 110% available 0 ovviamente 110% però interessante da tenere d'occhio anche qui quando c'è a disposizione del prestabile dunque my si è dimostrato affidabile come stable coin la volatilità è molto bassa ci sarebbe da tenerlo sotto controllo perché poi si ci farmi bene con my ci sono dei farm interessanti anche su phantom li avevamo visti mi ricordo è da segnare anche questo sì da approfondire assolutamente da approfondire hai visto platypus ecco a proposito di platypus a proposito di platypus ne avevamo parlato un bel po' di tempo fa quando non era ancora stata lanciata e adesso mi pare che sia stata lanciata proprio in questi giorni forse oggi stesso tra l'altro vediamo era il single side è uno stable swap quindi come curve quando swap una stable con l'altra adesso devo andare su avalanche però mi sa perché altrimenti mi impazzisce o no vediamo chiudo un po' di roba perché mi sta veramente sclerando il web 3 eccoci e con la differenza che non ci sono i pool quindi quando dai liquidità non la dai in un pool ma la dai soltanto su uno specifico asset l'oncap eccola qua prima era accappato era accappato a vediamo pool era uh ah no non è l'APY mamma mia mi stavo sentendo male no l'APR col boost col WPTP ah beh ciao buonanotte buonanotte qui abbiamo il classico WE il vote escrow no prima era accappato il deposito a 2 milioni e mezzo adesso l'hanno hanno tolto il cap ed è molto interessante come cosa perché abbiamo un 28% di APR su DAI abbiamo un 27% su MIM niente male niente affatto male e il boost per gli holder di WPTP in particolare vediamo booster calculator vediamo ad esempio DAI quanto c'è lo boost pool share vediamo se io avessi 10 WPTP 100 1000 10.000 non mi boost niente ah ok il mio deposito supponiamo 10.000 DAI 10.000 DAI con 100 quanto boost beh davvero 288% c'è qualcosa che non quadra quanto vale un WPTP scusate total supply 170 ne ho 10 91% porco cane ma è veramente così oggi oggi è tutto una scoperta in live vedete come WPTP dunque dove sarà su Trader Joe ma non sarà neanche scambiabile PTP sarà che si va a loccare in WPTP allora stake per quanto ah no eccolo qua 4.09 ma non costa neanche tanto 4.09 ma per quanto tempo va stacato c'è il discorso dei 4 anni pure qua bisogna approfondire approfondire troppo che oggi non ho avuto veramente un minuto comunque no è interessante perché a parte tutto anche un banalissimo 30% base base APR del 30% e poi basta veramente poco adesso apparentemente per boostare no con WPTP porca miseria scusa se riproviamo perché se io ho 10.000 dai 10.000 supponiamo e pool share PTP ok ok 10 mesi di staking cosa ti u cioè 10 mesi di staking te lo moltiplicano no vabbè ragazzi c'è qualcosa che non è impossibile è troppo bello per essere vero tutto ciò troppo bello per essere vero devo volare ad approfondire Platypus devo approfondire Platypus perché se c'è un APR del genere io vado a fare APIN cioè se PTP costa 4 dollari e io lo metto in staking per 10 mesi ho l'APR del 930% cioè io vado faccio un APIN che fa luce su PTP porcaccia la miseria ma davvero impossibile ci deve essere qualcosa ditemi cosa sto sbagliando perché qui non ha senso tutto è assolutamente così è veramente così ma quanto durerà se non scamma no non scamma è legit sta piattaforma avevo fatto un po' di ricerche prima è assolutamente legit assurdo incredibile bene live finisce qui ciao vado a fare APIN su Platypus porcaccia la miseria secondo te Wonderland sta crescendo come ecosistema mettere in stake dei time potrebbe non essere più una scommessa guarda è ancora una scommessa perché è comunque una DeFi di frontiera quindi in quanto tale la rimane secondo me è una scommessa però sta crescendo sempre di più cioè sta assolutamente crescendo tutti quelli con modello Rebase li considero ancora nella punta della piramide nell'area scommessa nella zona scommessa come valuti quanto è legit una piattaforma ma guarda di solito vado a vedere la quello che cioè chi c'è dietro come funziona gli audit la liquidità che ci si trova sopra il modello finanziario che la tiene in piedi se ci sono cose un po' rischiose tipo la loro stable coin e in tal caso ti studi come mantiene il peg cose di questo tipo insomma se ti nasce una nuova piattaforma dal nulla che ti dà 1000% di APY e non capisci perché solitamente non è legit se magari come adesso capisci più o meno come sta andando e non è destinato a durare quell'APR di Platypus però te lo rifai in fretta cioè se è così devo capire l'APR se è pagato in VEPTP in tal caso per quanto sono bloccati se sono bloccati devo capire assolutamente quello e quindi vediamo dove posso trovare un grafico sull'emissione di time e l'emissione di time dipende dall'APY dipende dall'APY dipende dal circolante e quindi dovresti farti un calcolo dell'emissione di 8 ore in 8 ore non è proprio facilissimo diciamo se hai pagato in PTP e non sono bloccati puoi fare claim quando vuoi no vabbè mi state mandando in FOMO mi state mandando in FOMO mamma mia aiuto aiuto incredibile com'è possibile me lo chiedo anch'io com'è possibile refresh alla pagina di Platypus a me da 20% bolla bianciana chi di voi ha fatto i pin chi di voi ha fatto i pin maledetti lasciatelo fare a me allora base APR 29 sempre e qua c'è il simulatore via PTP con DAI è uguale è uguale cioè se io locco 100 PTP che sono 400 dollari per 10 mesi ottengo 10.000 via PTP what? e se metto 10.000 DAI no vabbè dai ma che roba è ma che roba è cioè io avrei il 5% no ma è impossibile io ho il 5% di tutti i via PTP circolanti con 100 PTP con 400 dollari beh c'è qualcosa che non mi torna c'è qualcosa di strano devo capire meglio devo capire meglio però mi ricordo che era Legit come piattaforma cioè scusate la vado a rivedere perché su Twitter avevo guardato un po' di tempo fa Platypus eccola vediamo sì bello molto bello ci sono anche dei WC dietro insomma non non è scam non lo so non so come spiegarmelo a che punto è 14esima eh guardate più 1400% ci sono anch'io no no è abbastanza Legit secondo me abbastanza Legit no vabbè ragazzi incredibile incredibile c'è un 50% di APY su Venus per BNB ma cosa sta succedendo su Venus c'è un deposite dimentica davvero dai ragazzi la fate voi la live d'or in poi eh cioè io voglio ma com'è possibile ma allora scusa su Bifi cosa mi dà il 12.000% che fa Mickey Loop su Venus Bifi vediamo BSC sì devo cambiare chain switch switch BSC cose incredibili stanno succedendo allora vediamo piattaforma Venus nessun risultato ah no stablecoin tutti BNB 2240 ancora com'è possibile non è aggiornato ma ho anche qua è dato da un picco del momento scusa andiamo a vedere BNB qua cioè improvvisamente sì no è un'anomalia pure questa improvvisamente l'11 di gennaio alle 11 e 23 tac ha iniziato a pompare follemente il supply APY dal 5% al 55 cioè qualcuno avrà borrovato una quantità disumana di BNB per fare per partecipare al launchpad non lo so ragazzi non so veramente cosa pensare ma c'è stanno succedendo cose assurde qualcuno ha borrovato una quantità industriale di BNB in questo momento l'11 di gennaio il 12 di gennaio guardate che picco tac total supply 406 milioni total borrow 390 milioni cioè praticamente il 90% dei BNB sono borroati e ha schizzato alle stelle niente male non durerà neanche questo però finché c'è insomma se si hanno dei BNB che stanno marcendo fighe ste dinamiche cioè è bello andarle a vedere anche ste stranezze qui no è l'unione europea che ha borroato BNB per coprire il recovery fund non è la prima volta quando ci sono i launchpad su Binance lo fa la settimana hai capito allora è davvero il launchpad interessante interessante che ci sono delle balene che vogliono bello bello balene che vogliono BNB a cannone per avere un'allocazione gigante nel launchpad bell'operatività mi piace timido la prossima volta timido dunque 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 una domanda posso trasferire tutti gli account metamask a un ledger o devo prima smontare gli LP non ho capito sono su rete BSC non credo di aver capito la domanda sai mi spiace poi vediamo ci si può fidare di Arbismart e del relativo io non mi fido sinceramente non mi dà proprio una sensazione di trasparenza conviene mettere le stable sulla pool EURT usd su polygon con i crv ottenuti che si fa li si può solo vendere su polygon mi sembrava che non ci fossero rendimenti spaziali su quella pool andiamo a vedere anche su ethereum su convex stanno scendendo molto i rendimenti delle pool di stable coin di curve perché quando il mercato è un po' così noioso di solito i rendimenti sulle stable soffrono un po' 4 EUR questa è una pool morta EURT più 3 CRV cosa abbiamo un 16 e 3 19 era questa che dicevi immagino aspetta cerchiamo EUR direi di sì beh guarda qua con i crv che ottieni su curve su polygon non puoi fare niente se non holdarli trasferirli se vuoi su ethereum e lì farci cose ma su polygon non c'è la DAO non c'è la volevano implementare eh so però al momento non puoi fare la parte di governance quindi non puoi trasformarli in VCRV non puoi votare e così via quindi o fai farm and dump oppure te li tieni quella è la cosa che ci puoi fare 17 18 vabbè dai non è neanche non fa neanche schifo come rendimento poi c'è l'euro però l'euro quanto pesa qui dentro il 33 il 50% ah euro non è male essere esposti così però c'è da vedere quanto tiene botta poi il il rendimento ecco la reward in questione poi Luca ha ricevuto una mail da Metamask dove si chiedeva di fare KYC a una richiesta vera è assolutamente uno scam fai attenzione perché Metamask non ti chiede il KYC non ti chiede nulla per mail soprattutto perché non ha la tua non dovrebbe avere la tua mail Metamask io non ricordo di aver mai lasciato la mail su Metamask comunque quando vedete una mail che arriva da Metamask sappiate che è uno scam è abbastanza uno scam poi cosa ne pensi dell'ecosistema Kusama ah guarda ecosistema Kusama me lo devo studiare bene perché non sono sul pezzissimo però Kusama e Polkadot a me non dispiacciono ma di Avalanche non parli mai è piena di use case e partnership con grosse multinazionali ma guarda Avalanche per me è tanta roba tantissima roba e come chain come ecosistema e tutto quanto dovrei decidermi ad allocare una parte del portafoglio del mio capitale nei layer 1 e layer 2 è una cosa che ho stottarlo da un sacco di tempo ma a parte l'una e solana non l'ho mai fatto vi ricordate ne avevamo parlato che dicevo ci vorrebbe un indice che va a diversificare su layer 1 e layer 2 non c'è non c'è lo vorrei lo vorrei proprio Luke dai un'occhiata a Android Finance l'avevo vista vuole essere una landing con tokenomics se l'occhi i tuoi hnd ti busta l'apy del borrow l'avevo vista e non era affatto male 100 ecco infatti ce l'ho anche qua nella cronologia allora allora su su cross chain ma era su phantom mi pareva no? il grosso vediamo chiudiamo bifi che altrimenti mi continua a far saltare da una chain all'altra allora qua mi ricordo che sì però ti diciamo ti fa ok sì ci sono degli apr interessanti soprattutto su frax frax e dunque per arrivare ad essere bustato così tanto quanti ce ne vogliono quanti ce ne vogliono di dve hnd questo è il discorso questa è la domanda dunque dov'è che si vedeva tac vote no vote ti manda sulla governance forse era su ethereum che si bloccava perché rinfrescami velocemente la memoria cioè sono interessanti però c'è da capire quanti v e hnd ci vogliono allora luke dove si scambia ptp sarà su trader joe presumo immagino luke su harmony è il grosso allora andiamolo a vedere su harmony tac non era su phantom mi ricordo che avevo visto su phantom perché avevo visto questi apr golosi ma su harmony sono ancora meglio vediamo 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 devo riswitchare harmony eccolo ce la possiamo fare e da qui che si locca vediamo nel frattempo vado avanti con le vostre domandozze domandozzole il modo migliore per mettere a rendita cro fuori dall'app ma ci sono le defy su chronos ci sono le defy su chronos tipo vvs ci sono i pool dei pool interessanti croatom ad esempio è molto interessante e ticktonic è un po' scesa come come rendimento se no su osmosis anche ci sono dei bei pool su osmosis a propos osmosis i pool di croat non erano affatto male intanto qua rifresciamo un'altra volta sono su harmony a giuro vedere se magari impazzisce con il resto boh allora osmosis eccolo pools vediamo dov'è croosmo ad esempio oggi il pc non collabora frulla frulla in continuazione ma non ha intenzione di collaborare mannaggia lui erano abbastanza alti i pool di croatom croi croosmo e perché ok 77 7 74 infatti mi ricordavo chiaramente sei esposto anche ad atom oppure a osmo mentre con vvs anche lì c'era il pool croatom mi ricordo tac allora beh qua i pool di croce ne sono una quantità infinita c'è anche croo vtc niente male croatom al 53 croo vvm vvs non mi piace croo vtc croo eth al 45 quindi dipende con cosa lo vuoi accoppiare se lo vuoi accoppiare con atom osmo chiaramente osmosis ti conviene con vtc o eth c'è vvs ottimo farm and dump e passa la paura tra l'altro su bifi se non ricordo male è anche un po' bustato vediamo adesso devo ricambiare chain niente oggi va così oggi va così allora android oh eccolo qua allora no beh è più grosso su phantom 41 milioni su phantom sono di più qui c'è ust che non è male al 30% anche base niente male e volevo vedere orcocane mi fate un refresh per piacere del lock come funziona su android cioè per quanto tempo vanno lockati e quanto ti pesano sul boost se li locki perché io non sono un grande fan del lockare i token cioè a meno di un caso clamoroso come quello di platypus che ti dà una perché absc no chronos a parte il caso come quello di platypus che ti dà un ipr talmente alto che è veramente folle ma perché absc ma perché cosa ti ho fatto di male vai su chronos mannaggia oh niente allora crobtcu 53 50 esatto quindi direi bifi osmosis per chiudere la domanda cro per arrivare al discorso android dicevo che o c'è un apr talmente alto che mi fa venire voglia di lockare un token ed espormi adesso o altrimenti non mi viene manco voglia cioè zero platypus non devi lockare devi avere il ve il ve ptp il ve ptp quindi lo tieni lockando ptp e basta basta con sto platypus che mi sento male esatto esattamente esattamente matic come si comporterà con l'integrazione dell'ip 1559 ma secondo me non dovrebbe cambiare più di tanto perché comunque non come si dice non non si brucia tantissimo in gas fee su 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 cosa su matic si spende talmente poco secondo te è più facile la gestione di un fork di olympus dao oppure un fork di tomb finance cacchio il fork di tomb finance lì vai spingi molto ecco il gambling spingi veramente tanto io tra i due dipende dal fork chiaramente perché fork di olympus dao se vai a prendere quelli esotici vai a finire in un buco nero di niente se vai a prendere quelli un po' seri allora come dire lì cioè è sempre un gamble ad alto rischio ma comunque con il suo perché no dietro mentre i fork di tomb diciamo che mannaggia cioè insomma molti sono finiti male su hundred finance vai su vote e fai il tè ok allora torniamo su a oh mannaggia adesso lo devo riaprire vote hundred finance su dove harmony phantom va bene anche phantom vediamo ci voglio arrivare in fondo sta cosa è una questione di principio proprio è diventata una questione di principio non gli va bene non gli va bene dove cosa devo fare io con te me lo spieghi me lo spieghi ti ero giusto harmony proviamo su harmony ce l'abbiamo fatta allora vediamo hnd supponiamo uno per quattro anni ok volevo simulare allora h1 ust è questa no hust vote percent allora no ma qui mi fa votare e basta è questo allora hust stake amount supponiamo mille diecimila ust locked hnd 10 quanto costa un hnd 3,66 dai facciamo anche 100 crepi la varizia per quattro anni abbiamo 100 vhnd boost massimo 73% di ipr guardate sta roba qua quanto ma se tipo scendiamo un po 10 no sono pochi 50 56 57 60 60 60 hnd che qui valgono a 6 per 4 240 dollari di boost al massimo 10.000 ust 73% di apr però bene ok diversifichiamo tra qua e platypus allora tutto tutto così interessante poi immagino che al crescere delle dimensioni del pool crescerà anche il cioè scusa diminui si diluiranno un po' di più queste cose presumo interessante però ragazzi che dire ci portiamo a casa qualche qualche cosa da sperimentare da giochichiarci un po' figo figo allora riguardo olympus e tomb intendevo non dal lato del gambling ma nello sviluppo e la gestione degli smart contracts di generale perché vedo che i fork di tomb hanno anche il mantenimento del peg oltre al meccanismo di bonding esatto sono molto più rischiosi per questa ragione perché c'è il discorso anche lì del share bond una roba e l'altra cioè deve mantenere il peg e non lo mantiene praticamente mai se ci fai caso c'è questa teoricamente questo signoraggio che però quando prevale la speculazione poche volte dura a lungo una settimana fa era 61% ust al massimo interessante ciao lì più volte i capi di erond hanno detto che max verrà sicuramente listato in altri exchange come vedi questa cosa potrebbe fare un per 10 col listaggio guarda non sono un grande fan di max non non lo l'ho l'erei neanche se sapessi che va su binance sinceramente crypto farm italia ci ha fatto un video con una strategia su android me lo guardo seduta stante seduta stante tutorial su platypus per 10 con max dai fatti bravi e bene bene ragazzi benissimo la yield reserve su anchor si sta dissanguando qualcuno ha suonato l'allarme e ragazzi ve l'ho detto adesso lì il discorso è andare a implementare i nuovi collaterali e rimpinguarlo un po' altrimenti vedremo gli apy calare vediamo vediamo un po' vediamo un po' sono in piena forma fai un tutorial su basta con sto platypus calmi calmissimi calmissimi adesso me lo studio domattina no non è sabato ragazzi io devo devo andarmene il weekend non si fa niente mi spiace ne parleremo lunedì mi sa lunedì parliamo di platypus dovrete aspettare ragazzi dovrete aspettare Luke ti ringrazio per averci scillato Andrea Crypto Farm Italia guarda mi piace un sacco i contenuti che fanno assolutamente allora ragazzi io vi Lucas il lavoro si produce state buoni basta 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 allora bene ragazzi io direi che noi ci c'è Frances 150% su BNB che vi devo dire Frances anche lui è da studiare per vedere un buon progetto studi il white paper no ragazzi sinceramente no non studio quasi mai il white paper vado a vedere più che altro le credenziali una cosa e l'altra del team che c'è dietro e come funziona il processo il white paper leggerlo tutto di solito non serve più di tanto ci sono dei tecnicismi abbastanza come dire cioè inutili forse addirittura basta con sto platypus basta 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 bene ragazzi noi ci salutiamo io vi auguro un buon weekend ci vediamo lunedì e di che cosa parliamo di platypus quindi fate i bravi e vediamo se sarà ancora in piedi lunedì e quanto quanto renderà bene ragazzoni a presto a lunedì buon weekend buona serata ciao a tutti